ma questo chi è ma tu lo conosci lo conosco lo conosco tramite web conosco come conosco il botolino è il botolino è il botolino frate no frate niente botolino frate sono tutto rovinato ma facci scherzi ti ricordi il fatto quello lì su Arai aspetta ma facci scherzi non lo so ma oggi l'ha avviato la propria relazione d'amore oggi resta il sentimento ma tu ti prendi conto? come l'ha avviato oggi? taglio pure stasera taglio e cuci ora sei chiuso la fine a sala domenica non esci più ragazzo è finita prima domenica sono almeno di martedì a che esci mo ah certo mi sembra si chiama ma ti ricordi a Befana o io ci conoscivo a natale e entrava a Befana apposta e le moglie future anzi passate ma non lasciate se la posso fare una domanda però ti risponde sincero vai 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 l'hai provata a chiamarla? ma chi? Alice? tutti i giorni la sei tu? tutti i giorni? ma tu fermate fratello tutti i giorni ma io ho fatto uno sbaglio che finisce ma fratello ho perso la donna più ma tu ti pensi che hai 14 questo hai 14 e 32 ce ne posso avere una per giorno adesso Battisti che diceva possa avere una per il giorno e una per la sera però quel mattino ti rendi conto però è vero una donna una donna che stravolge la vita ah ci sarà una donna oh a me oh a fratello tu hai capito che fratello facciamo quando ce ne accorgiamo quando le perdiamo Brasiano no no io me ne accorgo quando non ci sta più fratello è la verità quando le perdiamo come a me sta Patrizia mi ha scupato prima o poi la lascio mi voglio mettere una trentenne la lascio e mi voglio mettere una trentenne eh meglio sta lì signora si ha ragione Patrizia! 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 io voglio cambiare una trentenne ti posso cambiare una trentenne? Patrizia ha ragione lui no sto giocato è una burla oh me la voglio cambiare una trentenne Brasiano eccola oh è una burla che lo sopporto, Brasia. Dijelo vai, o sai quante cose la mi senti? Vai, vai, voglio vedere poi quanto ritorna. Oh, sette stacchi al mese. Dijelo. Bravo. Sono 27 anni e mi sopporta, Brasia. Oh, pensa a te lei. Ancora c'è i da CIM, mi muoiono da un psichialista. Ma che sei matto? Ma come fai Brasia? No, fai tutto assolutamente. Dijelo quando te ne vanno, Brasia, non c'è niente da fare. Eh? Dijelo quando te ne vanno. Ma io non te l'ho accorto. Fa mettere qualcuno, non ti muovi. Vai. Mamma, mi dico fermi tu. Ma chi è? Tutta a vela col Brasile, no? Mamma, ora entrano tutti abbenati, sentiti eh. Come vince una credita, Brasile. Che cazzo. Le forbici? Un salgo, no? Ma chi? Ho invitato a stare a città qui. Fa mi entrare, Brasile, aspettavo va a sentar, Sammi, oh. Ma chi? Oh, ora che non mi risa, fratello, sbagliato. Soutu. Vai, fratello. Luigi. Lascio un fiore e malgrado nessuno lo annaffierà. Ero cascato a letto, Brasile. No, sono cascato io da letto, sono cascato a tavolo. Senta adesso non c'è, Brasile. Ah, fratello. Dai, eh. Non ci credo. Che dici, fratello? Io non lo vedo, Brasile. Io lo vedo, io ti preoccupa. Porco di... Fratello. Eccomi. Direttamente da dove? Direttamente da Rimini. Capitale. Non scherzo, Capitale. Che dici, vai, c'è pure Luigi. Vai, vai, dici tutto. È un piacere, un onore. Che traiamo due qui. Buonasera. Un onore. Non lo vedete? Io non lo vedo, Brasile. Come lo vedo? No. Allora. Grazie a tutti.